La rivoluzione francese, la rivoluzione russa, i vespri siciliani, nei sistemi complessi arriva un momento di rottura e poi il casus belli può essere qualunque sciocchezza. La rivoluzione francese è quando gli hanno detto di mangiare le brioche, ma erano secoli che vivevano in condizioni disgraziate. Che vi devo dire? Fino a che il popolo italiano non si troverà di fronte ad una drammatica alternativa non aprirà gli occhi, non assumerà le decisioni necessarie. Ma è ovvio che stiamo pericolosamente andando fuori da un qualunque contesto democratico. Grazie. Dario? Un brevissimo commento a quello che ha detto Alessandro. Mi ricordo che nella Firenze del Machiavelli, quindi delle banche, perché era dei medici, poi arrivarono i francesi, quindi uno Stato con un esercito e vennero spazzati via. Detto questo, io penso che il problema sia più vasto, non ci dobbiamo fermare solamente all'obbligo vaccinale. Un dato, visto che prima parlavi di sanità, di gente che va via, ho dei dati su Verona, l'Ulss 9 Scaligera, dove nell'ultimo anno si sono dimessi 113 medici e non erano medici, e questi sono dati ufficiali dell'azienda, non erano medici contro l'obbligo vaccinale, ma probabilmente le situazioni, l'ambiente lavorativo e tutto quello che c'è in questo momento nella sanità... Quello che avrebbero dovuto affrontare per poter rimanere senza problemi... Stanno arrivando dei nodi fondamentali al pettine, per cui il rischio del crollo della sanità c'è. A quel punto una carenza di sanità, una carenza di assistenza al cittadino, potrebbe essere una delle tante molle, perché poi ci saranno quelle economiche e tante altre, che potrebbero innescare quella miccia che probabilmente a ottobre o in periodo autunnale potrebbe divampare in un incendio. Certo, Vanni, bisogna toccare il fondo quindi, se ne accorgerà da solo il cittadino, se ne accorgerà da solo quando accederà ai servizi pubblici e non li troverà. Beh, lì bisogna stare attenti perché siccome chi organizza le cose non è stupido per niente, con l'intelligenza artificiale probabilmente proveranno a sostituire tante delle cose che vengono fatte oggi dalle persone con qualcosa di diverso. Io ho sentito sia Musk sia un sacco di altri personaggi dire che in questo momento si è arrivato in un punto, per esempio, dove l'economia non ha più bisogno degli esseri umani per funzionare. Chiaramente loro parlano di economia perché non possono dire a noi non servite più voi finalmente, perché abbiamo intelligenza artificiale e robot. Ma il punto che la gente dovrebbe realizzare è esattamente questo. Cioè l'economia nasce per servire l'esigenza dell'uomo, per fare in maniera che il mondo possa funzionare. non è che sta davanti all'essere umano e lo traina nella direzione in cui vuole lei. La tecnologia, alla stessa maniera, nasce per servire l'uomo, non l'uomo per servire la tecnologia come sta accadendo. Se la gente non prende consapevolezza di questo, ma noi dove volete che finiamo? Mi sembra una considerazione conclusiva importante quella di Vanni. Io mi sento di aggiungere soltanto che mi auguro che quello che accadrà nel futuro servirà soltanto a risvegliare le coscienze delle persone, perché ne stanno accadendo di cose. Cominciate a pensare, perché poi come dicevi tu Vanni giustamente, alla fine la possono incartare, la colpa è di questo, la colpa è di un altro. Cominciate a pensare se accadono cose che non sono mai accadute, perché sono accadute. Cominciate a ricordare quello che vi dicevano un anno fa, due anni fa, vi vaccinate e usciamo da tutti e adesso siamo di nuovo qui. Ricordatevi, perché questa span di attenzione di 15 secondi e che il giorno dopo o il giorno prima sparisce nel nulla non vi impedisce di realizzare neanche in realtà che cosa è successo. Bisogna riprendere l'attenzione alla propria vita, al passato, al presente, con lo sguardo al futuro. Esatto. Ricordiamoci sempre che a dicembre del 2020, mi sembra, ci hanno detto vi fate una dose a posto a vita, poi due dosi a vita, poi adesso non c'è più nessuna vita e non funzionerà nemmeno niente. Quindi ricordiamoci, a proposito dell'articolo 54 diceva allargato, allora i primi a essere messi sotto accusa, le prime fake news sono state proprio sparate dal grande mainstream.